ciao freddy ciao boni per caso hai visto il guardiano è di nuovo senza costume beh lo conosci sì ma lo troveremo alla fine anche se è difficile trovarlo con la testa di freddy beh come puoi vedere da queste parti non c'è perché non vai a cercare altrove guardia notturna ti prendo a calci in culo ah fottuta da aspetta hai visto il guardiano sì è proprio lì davanti a noi no è il solito freddy no sta ancora facendo quel trucchetto con la maschera di freddy sai inganna i tuoi scanner facciali ah diamine se è freddy perché continui ad accecarmi con quella torcia in faccia beh ovviamente lo stai spaventando lo sto spaventando giuro che ti slapo gli occhi poxy calmati no sono l'unico in questo dannato posto a capire che quello non è freddy ballon boy diglielo anche tu no non mi interessa se è freddy sto solo cercando di mettere le mani su quelle deliziose succolenti batterie mi sto veramente stancando mostragli che sei la guardia notturna quello è un giocattolo sapete cosa dov'è freddy non ce ne possono essere due giusto freddy sì ecco ora abbiamo due freddy grande bonnie oh mio dio stai zitto fermi che sta succedendo qui cerchiamo la guardia notturna e chi è lui penso che sia freddy corpo di mille balene tu sei freddy dove te ne vai tu fottiti io mi estengo da sta merda credo che tu l'abbia un po confuso bonnie ascolta aspetta che ore sono ciao ragazzi mangol che ore sono sono le 5 e 59 le 5 e 59 è lui il guardiano il guardiano il guardiano batterie no 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 ragazzi io sono freddy oh mio dio no 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 Ehm, pronto? Ehm, pronto?